Bene amici, recensione flash e vado subito al punto, questo sì, questo no, queste best buy, sì perché ho provato i nuovi OnePlus Nord, lui è il Nord 2T 5G, lui è il Nord CE 2 Lite 5G, praticamente uno scioglilingua, ma già guardate dai display potete capire perché uno mi è piaciuto e l'altro no. Ovviamente non è che non mi è piaciuto in assoluto, ma rispetto a quanto costa questo, cioè il Nord 2T ha tanto 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 più senso, anche perché il display da una parte IPS dall'altra OLED, senso di impronta sotto allo schermo, qua laterale, insomma partiamo con ordine. Da questa parte abbiamo un telefono con un processore Mediatek Dimensity che va veramente molto bene, ha una scocca in plastica ma fatta bene e una back cover in vetro, non che io previsca il vetro alla plastica, anzi se cadono questi due telefoni probabilmente questo è più difficile che si rompa, ma sicuramente questo Nord 2T ha un aspetto più premium e soprattutto rimangono poco le ditate. Qua invece ditate non tanto dietro che la plastica opaca, quanto davanti rimangono tantissimo, veramente tanto tanto tanto. I pesi sono simili, 190 grammi da una parte, 195 dall'altra, così anche gli spessori, ma vi faccio vedere un attimino il display, perché se da una parte abbiamo un 6,43 pollici AMOLED 90Hz, dall'altra parte abbiamo un 6,59 quindi un filino più grande, 120Hz quindi un filino più veloce nel refresh, ma assolutamente peggio nell'uso quotidiano. Ve li metto entrambi in orizzontale e non sono all'unità massima, tra l'altro questo non so perché ha deciso di non girare, si gira adesso, segno che il processore è comunque molto più pigro. E la luminosità, gli angoli di visuale, la piacevolezza di visualizzazione proprio non ha paragoni. Vince 10 a 0 quello del 2T Nord 5G, mentre per quanto riguarda la batteria 4500 mAh, 80 Watt la ricarica, intelligente, perché rispetto a questo lui carica a scalini, quindi fa un po' riposare la batteria quando capisce che abbiamo del tempo per caricarlo, tipicamente la notte, e dura fino a sera tranquillamente con il 15-20% di autonomia residua, lui 5000 mAh, ha uno Snapdragon che è meno energivo, la batteria è un po' più grande, arriva a sera tranquillamente al 30-35%, con però una ricarica più lenta a 33 Watt, un po' più stupida, ma soprattutto con prestazioni decisamente inferiori. E ve le faccio subito vedere, utilizzo quotidiano, ormai tutti i telefoni vanno più o meno uguali, ma già vedete Instagram qua si è aperto almeno un secondo e mezzo dopo, e poi vi faccio vedere Facebook, probabilmente Facebook era in cash, però qua ha dovuto ricaricare, quindi si è aperto velocemente, ma vi assicuro che poi in utilizzo quotidiano si vedono le differenze di apertura delle applicazioni, vedete anche offerte.club, è arrivato un po' più tardi da questa parte, vi faccio vedere anche al volissimo TikTok, TikTok un pochino meno le differenze, TikTok, 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 vabbè comunque TikTok, e Real Racing, qua c'è una grande differenza di caricamento, mi sa che a un certo punto dovrò tagliare, anzi facciamo un passo indietro, vi parlo delle cuffie Best Buy, perché queste OnePlus Nord, oltre ad essere molto belle di design, guardate che carine sono in ear, ma sono un po' piatte dal punto di vista del frontale, stanno molto bene nelle orecchie, non hanno la cancellazione attiva del suono, ma in chiamata l'intelligenza artificiale per abbattere i rumori ambientali, tra l'altro adesso è arrivato il Nord 2T, non è ancora arrivato l'altro che è arrivato adesso, ma dall'altra parte mi hanno sempre sentito bene, anche in condizioni di vento, la batteria dura un botto, 6-7 ore di ascolto, ovviamente non hanno la cancellazione attiva del suono, quindi del rumore, quindi mantengono un pochino di più la batteria, 3 cariche più o meno con lo scatolotto, e per 49€ mi sono piaciute veramente tanto, hanno l'applicazione con la quale si può andare a personalizzare il tap, play pausa di default, doppio tap avanti una canzone, triplo tap che si può personalizzare anche l'avvio dell'assistente vocale, oppure anche il tap prolungato, unica cosa che non hanno, la possibilità di regolare il volume direttamente dalle cuffie, per fare quello bisogna usare magari gli assistenti vocali o i tasti sugli smartphone, comunque loro mi sono piaciute veramente tanto, Android 12, Android 12, patch di maggio sul 2T, CE2 invece che ce l'ha ancora ad aprile, qua comunque in generale tirata di orecchie a OnePlus, perché gli aggiornamenti soprattutto sui Nord, o là il primo Nord, ancora Android 11, OnePlus, OnePlus e poi questa pletora di telefoni OnePlus, una volta me ne facevi due fatti bene che costavano poco, ma lo sappiamo, ormai non c'è più la OnePlus di una volta, il software praticamente la Oxygen oppizzato, non è più la Oxygen di una volta, però tante personalizzazioni, le opzioni ci sono assolutamente tutte, la cosa che non mi piace è questa, quando arrivano più notifiche della stessa applicazione, e quando si schiaccia nella notifica non si va all'applicazione, ma si aprono le notifiche, è un comportamento che a me non è mai piaciuto, e quindi ve lo segnalo perché non mi piace nemmeno su questi Nord, però lui ha un feedback della vibrazione veramente molto bello, preciso, stroke, 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 lui non è zanzaroso, non è brutto, ma non è così preciso, fotocamere, anche qua ovviamente ci sono delle differenze, a partire dal fatto che da questa parte non abbiamo la grandangolare, ma abbiamo solamente la principale, mentre da questa parte abbiamo sì anche la grandangolare, che è da 8 megapixel, e vi faccio vedere subito le fotografie, anche andare nelle foto ci mette un po' di più, anche il senso di luminosità di qua è un pochino più pigro, mentre di qua è molto più preciso, e andiamo subito con la foto notturna, colori molto più corretti nel 2T, la macro anche qua ha un po' più di bocchè, comunque meglio sul 2T, attenzione c'è da dire che questo CE non fa schifo, cioè non fa foto che fanno schifo da base medio di gamma, da questa parte invece sul 2T abbiamo delle foto, diciamo da medio medio alto di gamma, soprattutto l'intelligenza artificiale fa un buon lavoro, interpolazione a tutte le parti, ovviamente c'è perché non c'è la camera zoom, funziona abbastanza bene, questa è la normale grandangolare, appunto solamente su 2T, insomma sul 2T foto buone, ok anche per chi è un po' pignolino, anche i video abbastanza bene, direi meglio di alcuni pari prezzo, mentre sul CE, ripeto, medio base di gamma, il fatto che manchi la grandangolare, secondo me è un grande minus, apro Spotify, è già arrivato da questa parte, arriva adesso da quest'altra parte, vado di bla bla bla, volume massimo, e qua l'altra differenza, perché di qua abbiamo l'audio stereo, tra l'altro telefonata che va bene su tutti e due i telefoni, entrambi hanno il dual sim, entrambi hanno una buona qualità della chiamata, mentre vi faccio sentire da quest'altra parte, se ci riesco, ok, questo smartphone, alzo, da questa parte l'audio è solamente mono, però c'è da dire che qua abbiamo il jack per le cuffie, che di qua, ahimè, non abbiamo, l'unica cosa che ho da segnalare, è che su questo telefono, a volte, durante la chiamata, sul CE, si scalda, si scalda così, a caso, cosa che capita, un pochino meno, sul Nord 2T, veniamo alle conclusioni, lui costa, 409 euro, 828, e lo comprerei, non è un best buy, ma poco ci manca, perché gira veramente bene, ha un bel feedback della vibrazione, ha un bel display, è affidabile, veloce, già il 12256, 509 euro, lo vedo un po' troppo caro, ma lui, lui ci sta, lui costa, solo 100 euro di meno, in versione 6128, e vuoi il display, che è assolutamente mi piaciuto, vuoi la lentezza, questo Snapdragon 695 5G, non è che è uscito benissimo, ha Qualcomm, è vero, la batteria dura di più, però non è quella differenza, che questo qua, non dura un cavolo, e questo qua dura tantissimo, già questo dura, per arrivare a sera, questo invece dura ancora di più, insomma, non mi ha convinto, old style, non lo comprerei, mentre, delle buds, vi ho già detto, queste mi sono piaciute, a 49 euro, un acquisto che farei, sì, no, best buy, ciao,